la funzione del nostro incontro oggi. Produrre una relazione funzionale vuol dire aver capito cosa ci stiamo a fare qui. Ok? Che funzione ha una carezza che do a mio figlio? Dipende. Posso rincuorarlo perché ha preso un brutto voto, posso fargli sentire che gli voglio bene, posso augurargli una buona notte, posso consolarlo. Che funzione ha? Capite che... Pensate all'ironia. Se dico una parolaccia a qualcuno ridendo, lui può pensare che io stia rinforzando il nostro regame, stia ammiccando, stia dicendogli ma tu sei proprio un dritto. Ma se invece io glielo dico urlando addosso, tu sei un furbone, potrei dirgli di peggio, lui capisce che lo sto insultando. La comprensione della funzione è la comprensione del senso.